E' stato ancora una volta un grandissimo successo il presepe vivente organizzato dalla parrocchia di San Biagio a Mugnano, un percorso suggestivo nel centro storico con Via Santa Maria trasformata nella Napoli antica del popolo. Due giorni col sostegno dell'amministrazione comunale che hanno visto una grande partecipazione. Il tema scelto per la terza edizione è stato Pulcinella racconta il presepe, con al centro la figura del carabiniere eroe della resistenza salvo d'acquisto. Scene del passato e scene del presente. L'omaggio a salvo d'acquisto viene a sposarsi bene con il senso del Natale perché se Natale è donarsi, anche salvo d'acquisto per amore della giustizia, per amore della sua patria, per amore della pace, ha saputo donare la sua vita per amore. Napoli del Novecento e poi raccontiamo la grutta di Bretaglio, portando veramente il buonsenso e la gioia di vivere. A me piace definirlo anomalo, nel senso che è recitato, quindi una recitazione itinerante in cui vengono non solo messo in scena la classica natività, quindi il messaggio, la nascita di Gesù Bambino, ma anche altre storie da contorno. Ad esempio quest'anno c'è la storia di Pulcinella che accompagna tutti gli attori all'interno dei vicoli che ospitano il presepe e un piccolo omaggio a salvo d'acquisto. E questo presepe vivente è la dimostrazione del fatto che l'unione fa la forza, quindi amministrazione, parrocchia, le associazioni. Un ringraziamento in particolare va anche alla protezione civile e ai vigili che ci assistono in questo preciso, durante questi momenti. Involge gran parte della nostra comunità, a partire dai giovani, bambini, famiglie, tutti si sono adoperati in questi giorni per la buona rappresentazione di questo presepe che ci aiuta a riscoprire anche un poco il vero senso del Natale. Un evento, due serate all'insegna della fraternità che ci aiutano a riscoprire e ci danno la certezza che con il Natale Gesù ci viene a testimoniare che non si è stancato di noi, che non si è stancato della nostra storia, non si è stancato di abitare nella nostra vita. E per questo, come dicevo, ecco tanti, sia i residenti qui di questo posto, sia i giovani, gli adulti, i bambini, si sono adoperati mettendo tutto il loro tempo a disposizione, sacrificando anche il loro lavoro, proprio nello spirito di condivisione, nel riscoprire il senso del Natale che è donarsi e fare qualcosa per gli altri. e loro in questi giorni stanno vivendo questo spirito di donazione.